Oggi Beppe ha lanciato il prossimo V-Day, il primo dicembre tutti in piazza Genova per andare oltre né destra né sinistra e provare a lanciare la cavalcata per le vittorie europee perché se riusciamo a vincere le elezioni europee per l'ETA li si mette molto 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 male e proveremo a costruire una Europa dei cittadini e non delle banche e della finanza.